Buongiorno, come sapete stiamo vivendo un momento difficile per via dell'emergenza del coronavirus. Da parte nostra come docenti ci siamo adoperati con la didattica a distanza per stare sempre a contatto con i nostri ragazzi. Purtroppo molti di loro, una buona parte di loro, ha il problema di non disporre di una connessione abbastanza potente o addirittura di non disporne affatto per collegarsi appunto alle attività che vengono proposte. Per questo motivo la maggior parte di loro dispone sicuramente di uno smartphone ma i giga che hanno a disposizione sono limitati. E allora c'è questa iniziativa che permette a chi dispone di una connessione wireless in un appartamento che è inserito in un condominio, in un palazzo, di poter condividerla per permettere appunto ai nostri ragazzi di seguire le lezioni online. Vediamo operativamente come si fa a condividere la propria connessione. Dobbiamo aprire un browser, io ad esempio ho Google Chrome e nella barra degli indirizzi occorrerà scrivere l'indirizzo del proprio router. Come sapete basta andare nella documentazione del router, quando l'abbiamo acquistato sicuramente ci sono queste informazioni ed andare a indicare l'indirizzo al quale poter raggiungere tutte le informazioni e le impostazioni del router. Il mio è il seguente, ovviamente potrà cambiare a seconda del router. La compagnia telefonica alla quale ho un abbonamento è la Vodafone e quindi l'interfaccia potrebbe essere diversa a seconda del provider, ma sostanzialmente le informazioni che bisognerà andare a modificare saranno le stesse. Per entrare nel router dovrò indicare il nome utente. Il mio nome utente è Vodafone, inserisco la password, sarà una password abbastanza lunga per salvaguardare la privacy. ecco qui, speriamo di averla digitata bene. Riesco ad entrare appunto nel pannello per la gestione del mio router. Bene, qui posso fare tante cose, ma quello che mi interessa è andare a condividere la mia connessione wifi. Quindi vado nella sezione wifi e, come vedete, ci sono tante impostazioni generali. Quella che mi interessa è la seguente. Questa è la configurazione del mio wifi, che viene detto wifi principale. Ed è ovviamente una connessione che è protetta da password. Vedete, c'è una protezione, qui c'è WPA2 e c'è una password. Ebbene, io ho la possibilità di andare a utilizzare un wifi secondario. Vedete, in questo modo vado a abilitare un wifi secondario e, appoggiandoci sempre sulla nostra connessione, vado a scrivere il nome della connessione, che viene chiamata SSID. Scrivete un nome che sia facilmente riconoscibile. Ad esempio scriverò solidarietà coronavirus. Benissimo. Scendendo nelle informazioni è preferibile che non ci sia alcuna protezione per quanto riguarda questa che è una, che sarà un wifi per gli ospiti. Per questo motivo quindi ho disattivato la protezione, la mia rimane comunque in vigore, nel senso che la mia connessione principale è protetta da password, mentre questa che io metto a disposizione sarà assolutamente priva di password. Quindi, dopo aver fatto tutto, devo applicare il password. Perfetto. A questo punto io posso abbandonare il pannello del router e posso anche chiudere la finestra del browser ed andiamo adesso a vedere quali sono le connessioni disponibili per entrare in internet. Come vedete, ogni computer ha un pannello a destra, proprio vicino alla data e all'orario corrente, un'icona che ci permette di capire quali sono le reti disponibili. Se io ci vado a cliccare, sto parlando ovviamente di Windows 10, vedete c'è la mia connessione attuale che è la connessione protetta da password, c'è anche un'altra che si chiama Vodafone Solidarietà Coronavirus. Ebbene, se un qualsiasi ragazzo che si trova nel condominio entra col proprio computer o anche con il proprio smartphone, proverà tra le connessioni disponibili proprio questa. E come sta scritto è una connessione aperta. Quindi basterà cliccarci sopra, connettersi automaticamente se ne lo si vuole, ci si connette e quindi adesso abbandono una connessione protetta mia personale e andrò a navigare, ecco sto navigando con la connessione Solidarietà Coronavirus. Quindi a questo punto potrò entrare in internet e usufruire assolutamente della connessione per navigare e quindi nella fattispecie per andare a seguire le lezioni a distanza. Spero che questo sia utile per condividere appunto con chi ha la necessità la banda a disposizione. Io vi ringrazio e arrivederci.